un'altra canzone che canticchierò volentieri chiamiamo con noi Simona Luglio eccola qua, un applauso a Simona un bravo, vacanze romane dei Mattia Bazar canta per noi Simona Luglio grazie grazie a tutti 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 facciamo un forte applauso per Simona Luglio grazie grazie Simona vi ricordo che siamo in diretta su Fly TV canale 218 del digitale terrestre da Ruvo di Puglia in Piazza Le Monache e stiamo trasmettendo la rassegna musicale di giovani artisti cantanti io voglio cantare dal fantasma dell'opera signore e signori ultimo brano Gianni Mazzone e Simona Luglio arrivederci ciao grazie a tutti grazie a tutti Grazie! 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 Grazie a tutti! Simona Lunga! Ragazze a qualche maniera! Grazie! Ciao! Grazie! Grazie! Grazie a tutti